L'emendamento con il quale i consiglieri di opposizione di Roseto degli Abruzzi chiedevano il ritiro della delibera che modifica le norme tecniche di attuazione del PRG è stato bocciato. La maggioranza dunque va verso l'approvazione definitiva della variante. E' questo il succo del Consiglio Comunale di ieri dove maggioranza e opposizione sono rimaste letteralmente distanti. L'emendamento è stato bocciato, non votato dalla maggioranza, appunto perché prevedeva il ritiro della delibera che ha fatto tutto il suo iter, è stata adottata e è passata in commissione urbanistica e ha ottenuto tutti i pareri. Ci tengo a sottolineare che un recepimento normativo che riguarda alcune norme sia a livello nazionale ma sono state anche recepite dall'articolo 23 bis della legge 1883 che è quella nostra legge regionale la deroga per quanto riguarda le altezze. Quindi noi facendo questo recepimento normativo che a livello nazionale prende anche lo sblocca cantieri andando a vedere anche quelle che sono le premialità che ci sono, piano casa o la legge 49 noi diamo la possibilità con questi recepimenti di norme di poter dare delle premialità a quelle che sono quelli che hanno la possibilità di poterle fare. E questo accade anche nelle zone B5 che sono le zone adiacenti al lungomare dove attualmente le norme prevedono una cosa dal piano regolatore vigente con questa approvazione le cose cambieranno ma le altezze rimarranno sempre 10,50 m uguali a quelle che sono attuali. Una variante che hanno deciso di fare molto velocemente non riusciamo a comprendere perché tutta questa velocità tra l'altro in presenza di un piano regolatore generale che stanno portando sulla città e non si comprende proprio perché questa velocità da approvare una variante al vecchio piano regolatore una variante che poi costituirà per il nostro lungomare un fronte molto alto e compatto come dice la soprintendenza. Noi non intendiamo avere questo sul nostro lungomare. E a ciò aggiungo che, come abbiamo scritto appunto nel nostro emendamento che tendeva a ritirare la delibera di adozione di quell'atto e quindi a non approvare in via definitiva la variante abbiamo visto che ci sono delle incompatibilità, c'è un conflitto di interessi seppure potenziale potrebbe essere anche solo potenziale che va a violare sia il Tuel sia il nostro statuto. Noi riteniamo che questo veramente non sia assolutamente trasparente, chiaro e rispettoso delle esigenze della nostra città.